Ehi raghi, questa è la storia della mia vita. Sono nata ben 20 anni fa, il 28 gennaio del 2000, al nord Italia, a Brescia, anche se i miei genitori sono sardi, infatti adesso sto in Sardegna. Pochi di voi lo sanno, ma sono nata con una cosa davvero davvero speciale, una malattia rara, che praticamente rende le mie ossa molto fragili, come se fossi una vecchietta o una bambola di porcellana. Questa cosa non si può curare, diciamo, però è parte della mia vita sempre, un po' come un amico di cui non puoi sbarazzarti, solo che non siamo tanto amici. Sono nata più o meno alle due e mezzo del pomeriggio, proprio a pranzo, quasi nell'orario in cui carico i video io di solito. I miei mi hanno portato a casa dopo un paio di giorni perché ero bella cicciottella. Fun fact, il mio colore di pelle era arancione, perché mia madre quando era incinta ha mangiato così tante carote che io sono diventata arancione. Però dopo più o meno un paio di giorni la cosa se n'è andata. Il mio primo ricordo è stato a un anno, e ho un video di questa cosa. Ero seduta su un tavolo, era il mio compleanno, ed erano tutti attorno a me, parenti, amici, e tutti stavano mangiando. Io ero lì, seduta nel seggiorone, che cercavo di mangiare qualcosa ma non avevo niente davanti, e quindi mi stavo lamentando, mentre tutti stavano parlando tra loro. Andando avanti con l'età, sono successi un po' di problemi per quella speciale malattia di cui vi ho parlato. Una cosa speciale è che la parte bianca del mio occhio è blu, e l'altra cosa speciale è che in vent'anni mi sono più o meno rotta quasi venti volte. Infatti da piccola la mia gamba destra era così debole che non mi permetteva di camminare. Quindi ci è voluto un po' più di tempo. Ho saltato tutto l'asilo, non ci sono potuta andare. E al posto dell'asilo ho dovuto fare un'operazione per farmi aggiustare la gamba. E adesso è un po' come stare su Cyberpunk 2077. Ho una gamba bionica. Cioè in pratica dentro l'osso ci hanno messo un ferro. Quindi ho iniziato l'elementari a 5 anni. I miei compagni mi volevano bene, nessuno mi ha mai fatto del male, mi facevo del male più che altro fuori da scuola. Sono e sono sempre stata abbastanza attenta a quello che faccio fuori. Per tutto quel periodo sono partita quasi ogni 3 mesi per fare una terapia che avrebbe dovuto aiutare le mie ossa ad essere un po' più forti. L'ho dovuta fare per 15 anni. All'elementari ricordo che i momenti più divertenti furono passare gli Halloween vestita o da pirata, mi ero vestita da Jack Sparrow una volta, o da suora. Sì, era una burlona. Poi arriviamo alle medie. I miei migliori amici erano sempre attorno a me. Soprattutto perché qui in questo bellissimo periodo si andava a caccia di fantasmi. Ma non solo. Io e i miei amici avevamo un gruppo degli assassini. No, niente di spaventoso. Erano semplicemente gli assassini di Assassin's Creed. Avevamo fatto un finto patto col sangue. Che era davvero ridicolo, ma noi ci credevamo davvero. Avevamo messo delle regole del gruppo, tipo non parlare mai del gruppo. E poi, tra le altre cose, ci siamo messi pure a cercare lo Slenderman. A fare dei riti strani, insomma le solite cose. C'era pure Erobra in quel periodo. E io è lì che ho iniziato a giocare a Minecraft. Nel 2012. E anche dove ho incontrato uno dei miei migliori amici. Che mi è rimasto accanto per tanto, tanto tempo. Ed è anche alle medie che ho dato il mio primo bacio. A un tizio che abitava in Alta Italia, solo che io ero in Sardegna. Ci siamo visti tipo sei volte nel corso di mesi, ma niente di che. In quel periodo però, nel 2011, ho dovuto anche rifare l'operazione alla gamba. Che stavo crescendo. E il ferro che mi avevano lasciato lì non era abbastanza grande. Oh, e quasi dimenticavo. I miei in quel periodo avevano una gelateria. Quindi mi sono strafogata di gelati come se non ci fossero domani. E per la mia tesina di terza media, avevo fatto un vulcano gigante. Con dei vecchi giornali della colla, bicarbonato e aceto. E mi ricordo per farlo funzionare avevo portato una bottiglia d'aceto in classe. Avevo messo puzza di aceto in tutta l'aula. Però sono comunque riuscita a passare. Non con tanto, però mi accontento. Avevo un sei in tutte le materie, tranne musica. Dove avevo sette. Arrivati al liceo, i miei erano molto preoccupati che io mi potessi far male. Perché al liceo c'erano molto più persone che io non conoscevo. E non si sapeva che cosa sarebbe successo. O che cosa avrebbero potuto fare. Quindi in quel periodo ho passato tre anni a studiare da casa. Un po' come fate voi ora per il coronavirus. Ero molto triste in quegli anni, però avevo comunque i miei amici online. E avevo pure iniziato il mio primo canale YouTube, che purtroppo poi ho eliminato. E' un peccato, perché comunque anche se è brutto, mi divertivo tanto. Il liceo che avevo scelto era l'artistico. Perché mi piaceva disegnare e volevo diventare un'artista di manga e anime. Cosa che poi alla fine non ho continuato. Al posto del disegno ho scelto la grafica. Grafica pubblicitaria, insomma, al PC. Tanto ci passavo già tante ore al giorno, quindi ho detto, ma sì. Ho iniziato ad andare di persona al liceo dopo il terzo anno. Anche se devo dire che al mio primo giorno di liceo, proprio al terzo anno, mi sono rotta un braccio. Eccola lì, la terza operazione. Adesso ho pure un braccio bionico. Andavo bene in abbastanza tutte le materie. All'inizio in inglese facevo schifo. Poi sono diventata molto brava. In matematica ero una bomba, avevo dieci. Eppure in fisica. Avevo nove, un pochino di meno, ma me la cavavo. Mi sono fatta qualche amico, qualche volta uscivo. Andava tutto bene. Ed è stato il periodo in cui ho giocato una montagna di League of Legends. Anche perché io stavo molto attenta in classe e non studiavo a casa. Quindi avevo un sacco di tempo da perdere. C'è da dire che è proprio su League of Legends che ho incontrato degli amici meravigliosi. Per molto tempo sono praticamente stati la mia famiglia. E penso che sotto certi versi lo saranno sempre. Sono andata a incontrarli a Modena e a Firenze. È stato un periodo fantastico e ho mangiato come un maiale. Ho letto un po' di libri, un po' di fumetti, disegnato un po' e il tempo è volato. Proprio lì in quegli anni però la mia salute non è che stesse andando così tanto bene. Si era scoperto che quella terapia che stavo facendo da 15 anni era sbagliata. E che avrei dovuto mollarla per un po' o cambiarla. Perché a mia sorpresa al posto di aiutare le mie ossa le stavo distruggendo. Così abbiamo cambiato ospedale, abbiamo cambiato terapia ma... Eh non era andata molto bene. E oltretutto la mia schiena stava un po' andando da tutte le parti ecco. Quindi è stata dura. Però arrivata al quinto anno mi sono dovuta concentrare all'esame. Ho portato una tesina che ho ancora salvata nel computer. Parlava del design invisibile. Di come i design perfetti fossero fatti così bene che la gente mentre li vedeva semplicemente non ci pensava. Beh è piaciuto e sono uscita con un bello 85. E onestamente mi piace 85. Non è il massimo però insomma è che fai lo butti un 85. Però è da lì che è iniziato un nuovo viaggio. Mi sono iscritta all'università ed ero molto 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 introversa. Avevo paura di parlare con chiunque. Dopo l'artistico avrei dovuto forse continuare in quella via. Però ho scelto di fare fisica. E stavo andando bene. Finché non so come mai era tutto troppo difficile. Sono stata sommersa di cose da studiare e dopo un annetto ho smesso di provarci. Ho incontrato però delle persone fantastiche ed è stata davvero una bella esperienza. Ed è stato il modo per me di aprirmi con nuove persone e trovare nuovi amici. Allora a metà del 2019 ricevetti un messaggio su Instagram da parte di un certo sbrizer. Stava cercando qualcuno per le voci del suo canale. E io ero tipo, eh non ho niente da fare. Ok, allora ho accettato. Mi sono comportata bene e ho fatto un buon lavoro. E siamo andati avanti così per un anno. Poi nel 2020 ho conosciuto delle persone meravigliose. Ho conosciuto Roby, i figli con cui faccio video tuttora. E ci passo praticamente tutto il giorno. Ed è anche grazie a loro che ho pensato di aprirmi un canale. Raghi siamo arrivati alla fine. Prima di finire volevo dirvi che questo video è stato fatto interamente col mouse. Ci sono voluti tipo 4 giorni di lavoro continuo solo a questo video. Ed è anche per questo che non ho pubblicato per due. Ma comunque vi volevo lasciare ancora un paio di mie foto. Tanto per capire come era la mia vita. E niente, spero vi sia piaciuto. E ringrazio davvero tutti quelli che mi hanno supportato in questi 20 lunghi o corti anni. Tipo i miei genitori, i dottori, gli amici che mi sono stati accanto. Roby e Pili. Quindi niente, volevo semplicemente dirvi grazie. E soprattutto a voi che siamo arrivati ai 100k. Ciao raghi!